Biglietto prego? Eh? Un biglietto. Non lo tengo. Non lo dico? No. Sul 100 euro. 100 euro. Biglietto prego? Non rispondi? Sta telefonato da vostro 100 euro. Biglietto prego? Eh non lo tengo biglietto. Ah non lo dico? Sul 100 euro. 100 euro? E mi faceva buona venta. Bravo! Oggi unico smart card ti conviene perché compresti tempo l'hai mo' e paghi 12 comode dati. Comodo, comodo, comodo. Ho pure visto sulla brusina qua. Con unico e presti tempo viaggi un anno e paghi 12 rate. Compralo subito anche tu. Signora unico questa era eccezionale anche se un po' mossa. Ma chiuma.